Vincenzo dice parli parli ma non concreti, neologismo italiano, adesso ho concretato e ti ho detto che faccio vedere un po' di foto di muffe varie, qui a seconda di come vanno a finire i vapori cambia il disegno della muffa, questi ragazzi hanno avuto molta sfortuna perché c'era il pilastro pieno, parete rivolte all'esterno, box doccia a contatto, quindi era una ciminiera di vapori e che cosa poteva succedere? Una volta che hai un problema del genere, se sei fortunato e ce l'hai così fai finta di pulire e diciamo che va tutto bene, se arrivi a questo punto a un certo punto ti fermi e dici non si leva neanche con la candeggina, per esempio qua abbiamo un inizio, sembrerebbe una sciocchezzuola e invece è da qui che nascono tutte le muffe, noi abbiamo un problema, questo muro è più freddo quando i vapori finiscono qua sopra fanno la condensa, sono quelle micro goccioline che non riuscite a vedere che rimangono lì persistenti nel muro, non si levano dovute al fatto che il muro aveva 12 gradi di temperatura e l'interno della stanza ne ha 60, cosa posso fare io per ridurre il problema? Non posso mettere il cappotto interno, almeno su quello siamo tutti d'accordo metto l'estrattore, un buon inizio, foro la parete, chiamo il muratore barra idraulico, faccio in modo che il più possibile questi vapori vengono eliminati, però c'è un piccolo problema, potrebbe non bastare, vi faccio vedere una foto di scena, vediamo un po' se la trovo dove un signore ha messo l'estrattore perché il bagno era cieco e la muffa non si è formata intorno all'estrattore ma intorno a tutto il resto si, tutti questi problemi apparentemente gravi, disastrosi e risolvibili li abbiamo risolti semplicemente rieducando la famiglia, capendo insieme che si può fare a costo zero per migliorare certe abitudini, a volte si può, a volte no, a volte scopriamo che questo bagno non è scaldato e usano lo scaldino da 1000 watt perché credono che sia giusto così, quella roba lì è stata corretta subito poi abbiamo preso il nostro trattamento che lo trovate anche nello shop, il trattamento Eco 3 Plus, abbiamo messo i nostri due disinfettanti, uno liquido e uno in crema che protegge e abbiamo messo la nostra pittura termoriflettente e abbiamo risolto questi problemi, fine, arriva giusto in tempo che Vincenzo dice parli parli ma non concreti, neologismo italiano adesso ho concretato e ti ho detto che quando abbiamo risolto a monte delle abitudini non corrette, abbiamo ucciso la muffa per davvero abbiamo messo un materiale che aiuta a ridurre l'impatto della condensa sui muri, abbiamo risolto il 99,5% dei casi ovviamente qual è il segreto? Non prendere chiunque, non è che chiunque mi mandi una foto e vi dico copia e incolla, fai questo e andrà tutto bene si fanno due chiacchiere prima e si cerca di capire quali sono le cause del problema, per esempio questo trattamento non è stato messo qua e non sarà mai messo qua perché il problema è talmente grave, una signora che vive da sola non riusciva ad arieggiare, stendeva i panni qua noi semplicemente ce ne siamo andati e basta, tutto qua, quindi significa non andarsi a prendere lavori che non si è sicuri di risolvere